L'idea del campus universitario proserpina nasce parecchi anni fa, ma di fatto si concretizza nel 2020 quando dalla ipotesi progettuale si passa ad un progetto e massima e nel 2023 al progetto esecutivo. Nel contempo si passa all'acquisto della ex casa del fanciullo a Pergusa. Proprietario della struttura è il fondo proserpina, società partner in Italia dell'Ateneo Statale Donarea Dei Osni Galati, Romania. Dal 2015 la partnership attiva ad Enna, grazie ad un riconoscimento ministeriale rumeno, l'estensione didattica della Facoltà di Medicina dell'Ateneo rumeno. Il campus sorgerà al centro del Mediterraneo, al centro della Sicilia, nella città di Enna. A 20 minuti dallo svincolo autostradale e dalla stazione ferroviaria, in una zona ben fornita dai mezzi pubblici, la struttura sorge all'interno di un parco di 3 ettari al confine di una delle oasi di verde più belle in Sicilia, la riserva naturale del lago di Pergusa. La realizzazione del campus prevede un investimento privato con uno sforzo economico di circa 10 milioni di euro, dei quali oltre 2 milioni per l'acquisto e 7,7 milioni di euro per la ristrutturazione. Struttura che dovrebbe essere pronta alla consegna nella primavera del 2025. I lavori sono già iniziati da tempo con lo sgombero dei locali e con il montaggio dei ponteggi necessari a proteggere la struttura esterna in fase di recupero. Il plesso sarà ecosostenibile grazie alla presenza di impianti fotovoltaici, solare termico e un adeguato isolamento termico delle pareti esterne. Il campus universitario Proserpina è una struttura all'avanguardia completa in ogni suo aspetto. La struttura si estende su 10.500 metri quadrati con annesso un parco di 2 ettari e posti auto. Dedicati. C'è un primo blocco area didattica che comprende. 36 tra aule e laboratori con un complessivo di circa 540 posti. 5 aule conferenze con una capienza di 100 posti per ciascuna di esse. Un teatro con una capienza di 480 posti a sedere per conferenze più grande della provincia di Enna. Una palestra per attività didattiche e attività sportive. Un secondo blocco denominato area alloggi comprende. 57 camere per un totale di 127 posti letto suddivise tra sistemazioni singole e doppie cona, su ciascuna unità abitativa, angolo cucina, televisione e tutti i comforts alberghieri. Una aula studio di 60 metri quadrati circa. Una lounge dedicata al relax e alla convivialità. Il campus universitario Proserpina rappresenta una novità assoluta in Sicilia e potrà essere un volano di sviluppo non solo per la massiccia presenza di studenti e docenti, ma anche per il territorio con tutto un indotto che si creerà soprattutto a Percusa. Già, per Percusa, una porzione di territorio che conosce solo bar e ristoranti, ma che grazie alla facoltà di medicina rumena potrà rivitalizzarsi. Percusa, una pericolazione di medicina rumore 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 di medic